In questo video ragazzi andrò a stream sniperare e Zisa che in questo momento ragazzi si trova in live e sta facendo i provini per il suo team Io ragazzi sono troppo emozionato, voglio assolutamente rovinargli tutti i server, ovviamente non voglio essere così cattivo Ma ragazzi non sarò solo perché in questo momento mi trovo su Discord con 4 miei iscritti che mi aiuteranno a stream sniperarla Entriamo in live da lei, prendiamo il codice e andiamo subito in partita Ok ragazzi non so come siamo riusciti ad entrare, guardate questo mio amico come si è chiamato, Zisa trattino alto noob Ragazzi siete perfetti, c'è anche Gaming Zone e c'è anche Achille, adesso ragà la faremo veramente, dico veramente sclerare Vi chiedo già da adesso un like, un'iscrizione, non lo so ragà andiamo in partita Ragazzi però mi raccomando, sono chiara su una cosa, vorrei che giochiamo seri Quindi evitate per favore di venire lì e picciarmi, buttarmi giù o fare un po' le solite cretinate per favore Il game è molto serio ragazzi Signori vediamo che mappa ci... ecco questa mappa ragazzi faccio sempre schifo ma va bene Allora dobbiamo cercare di stream sniperare Zisa, allora prima vediamo dove sta Allora è una default, aiutatemi tutti quanti gli dovete dare i calci amici Gli dovete dare i calci, venite qua da... oddio ragazzi non la vedo, è veramente, dico è veramente pieno di gente Credo in me stai... oh! Pugni raga! Bravo! No ragazzi, io la metto a sorridere ma anche voi non scherzate Basta! Ma non può, ma fatemi ban... no ragazzi il prossimo che non bano No bro, no! Basta! Ragazzi devo ringraziare Achille che gli ha riempito di calci, Zisa poverina Ci dobbiamo fare assolutamente vedere da Zisa, ci deve spettare Conan! Zisa noob? Inaccettabile! Ok signori, corriamo, corriamo! Allora, io in questo momento ho addestrato un team, siamo io, Achille, Zisa noob e GamingZoon In questo momento almeno noi ci dobbiamo qualificare Signori non so se ce la faccio, non so se ce la faccio Nanananana, vai, vai, vai Signori, mi sono qualificato, let's go! Mi date pure della nabba, mi date della nabba? Mi pullappate? Mi date della nabba? Ci manca che lasciate dislike? No, ragazzi ormai dislike non si vedono più Signori, non so come, non so come, e Zisa ci sta aspettando a noi del team Zisa noob ti sta bene, guarda, sta bene, così non puoi vincere Adesso ci troviamo in questa mappa dello scivolo Come se fossi biancaneve che scivola nei prati Non so ragazzi che cazzo lo sto dicendo, ma questa mappa è la mia preferita No ragazzi, devo assolutamente vincere, ma non ce la farò mai Non ce la farò mai Eh, vai la Conad, la Conad Ragazzi, poi meno male che non mi ha riconosciuto Perché io manco mi sono cambiato il nome Oh mio Dio No, non vinco Dai, no, non ci posso credere Vabbè, ragazzi, non fa niente Ragazzi, ma quanta sfiga potevamo avere? C'è sempre capitata la pivot push Non so mai come si chiama Ragazzi, Zisa, qua Ragazzi, Zisa, qua venite, c'è la default Andiamogli tutti quanti addosso No, non la vedo più, ragazzi Non la vedo più, signori Mi stanno riempendo di pugni Oh mio Dio Ragazzi, Zisa Eccolo qua, dai, i pugni gaming Qua dietro di te Dietro di te i gaming Ah ah Abbraccialo e butta laggiù Sì Oh, ragazzi Evitiamo di far cose là Perché mi dovete zappare Dai, riempila di pugni gaming Ah 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 Vai, ragazzi Dobbiamo assolutamente farla sclerare Non l'abbiamo fatta qualificare No, vabbè, ragazzi Adesso voglio vedere la sua reaction Ah Perché dovevo fare quelle vostre? Oh mio Dio, ragazzi Ma Zisa sta impazzendo Mi dispiace, ragazzi Il problema è che abbiamo appena iniziato Perché ci aspettano ancora Due, tre partite Signori, ci troviamo nel secondo game Questa volta Dammi una mappa decente Per favore, gioco Assurdo Ragazzi, ve lo giuro È due o tre volte Che facciamo la stessa mappa Ma, ragazzi, ve lo giuro Questo video Cioè, nel senso non è che ho fatto tagli Ci stanno capitando tutte le stesse mappe Allora Ecco Zisa Ragazzi, venite verso di me Dietro E Zisa è ultima È dietro Bravo Bravissimi, ragazzi Ecco Zisa Vai gaming Vai gaming Bravissimi Bravissimi, ragazzi Vai gaming Basta Basta Stanno Dagli i calci È qua, Zisa È qua, è qua, è qua Vai Allora, io non ho i calci e pugni Però gli sto ovviamente Bravissimo No, no, no Ragazzi No, no Bravissimo, bravissimo Butta laggiù Bravo, ragazzi È troppo, troppo Gaming Allora, aspettiamola qua Sti cavoli se non ci qualifichiamo Aspettiamola e diamogli un altro calcio Dove sta, dove sta Niente, non ci siamo qualificati Però perlomeno l'abbiamo fatta sclerare Ora, ragazzi Ci ritroviamo la stessa mappa Giuro quitto Non mi va Dai, ti prego Una mappa decente Decente Già meglio Già meglio In questo momento la mia squadra Mi sta sentendo su Discord E quindi vi dico Dobbiamo andare tutti Dai Zisa Eccola qua che è ultima Ragazzi Venite tutti quanti verso di me Eccolo Vai Si sta avvicini di nuovo Si sta avvicini di nuovo Vado a prendere la cazzuola di là Vai Abbracciala Dagli i calci Io la trattengo Io la trattengo No, raga Mi sto divertendo troppo Io mi vado a qualificare Mi vado a qualificare Anche se non ce la faremo mai Gaming soon Sei tutti noi Devi dargli fastidio Tu che sei il re Vai Buttala in acqua No, raga Credo che questo sia il video più divertente Che abbia mai fatto E si si afferma Perché probabilmente Si sarà talmente No, stai abbracciando me i gaming Si starà talmente arrabbiando Che non sa neanche Cosa dire Siete quando gli vado a dire che sto io Raga Mi uccide Ora vediamo la sua reaction Cosa di dire Fatevi la live da soli Ragazzi ma capitano sempre le stesse mappe Comunque raga In questa partita non gli daremo fastidio Perché poi secondo me se ne accorgi O magari ci vana Non lo so Adesso il nostro scopo è quello di qualificarci Così magari ci spetta pure E gli facciamo i balletti Non lo so La facciamo sclerare Vai e Conad Muovi quelle gambe Use un grande che fai la spesa Non è che faccio io la spesa La gente viene alla Conad Per fare la Va bene ragazzi Sto sparando tante di quelle Stronzate oggi Che voi non ci avete idea Conti Scori come se fossi una gazzella Vai Le gazzelle corrono Velocissime Ragazzi mi vado a Qualificare Let's go Ok ragazzi In questo momento Esisa mi sta aspettando In live da quello che ho capito Cosa vuoi gaming soon Vieni qua Bello Vieni qua Ti posso dare un pugnetto No No gaming No gaming Dammi un bel abbraccione Bello Dammi un abbraccione Vieni amichetto Siamo la palla in buca Signori Oh stiamo 2 a 1 2 a 1 Dobbiamo resistere 8 secondi Così andiamo in semifinale Let's go Signori siamo nella Bombardment Eh no Uno scioglilingua Incredibile Allora qua io Prendo sempre La bomba in faccia Questa volta Se esisa mi spetta Non posso perdere Vai gaming Gaming picchi a tutti Devi farmi vincere Vai ragazzi Come conad Persona altre cose Vai conad vinci Gaming mi devi uccidere Tutti quanti Qua c'è uno squalo Vai ragazzi La conad Deve andare a fare la spesa Ragazzi È una situazione Molto critica questa Molto critica No Per vedere che vinco Che sono un pro player Di stumble guys Cioè Dove essere più forte De maluco Siamo uno contro uno Siamo uno contro uno Vincola storia Non ci posso credere Vai Let's go Oh mio dio Non ci posso credere E balla conad E balla conad Guardi vedere Quanto sei forte Grande conad Persona altre cose Spammate qua sotto Nei commenti Forza conad Gaming Venite tutti qua dietro Eccola gaming Vai 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 Snappala Picchiatela Oh mio dio ragazzi Guardate Ma la stiamo snappando Di brutto Mio dio Povera esisa No Sono caduto io Sono caduto io Non ci posso credere Quindi No C'è il bug Della mappa No Ragazzi Ragazzi Ma No ma c'è un hacker Nella mappa Ma cosa sta succedendo Ma ci sta un hacker Oltre ad avergli rovinato I server Si sta anche Baccando tutto Stumble guys Cioè Oh mio dio Oh mio dio So cosa fare Non so cosa fare Ma adesso ragazzi È il momento Di svelarci Quindi cosa facciamo Andiamo in live Vabbè Vabbè Non so cosa dirvi No raga Io me ne vado Spento la luce Ciao Ma se ne è andata Se ne era andata Ok raga Alziamogli l'audio E diciamogli Ciao Esisa Potre Potresti Venire Su DS S Sisa Ti devo dire una cosa assurda Cioè stavo guardando la tua live Io ho visto che ci stavano Tre Tre tipi Che te stavano a dar fastidio Ah no Facciamo una cosa conti Tipo riesci A darmi una mano A pusharli Ah li dopo Ok Ok li devo push Va bene Se mi dai la password Dentro Eh ma ormai stavo Cioè stanno Finendo un game Ah vabbè Eh vabbè comunque il mio D era tipo Conad o no Se il genere Fra Esisa Ma per caso c'erano tipo 4 o 5 persone che ti davano fastidio Fra Sei stata stream sniperata Esisa E sono venuto qua per stream sniperarti E detto ciò E detto ciò E detto ciò Esisa Ma poi hai visto che sono tradigli hacker Giuro che non so stato io però eh Te lo giuro Non eri tu quello No no non ero io Ti lascio con la tua meravigliosa live E Ora posso giocare Ora Ora puoi giocare tranquilla Ah posso Puoi giocare tranquilla Si salute Sisa Ciao Ragazzi l'abbiamo fatta sclerare veramente di brutto Spero che questo video vi sia piaciuto Merita solamente un like Perché per registrare questo video Sono morto Sono morto Vi lascio il canale di Sisa qua sotto In descrizione Quindi andatevi tutti quanti a iscrivervi E detto ciao ragazzi Ehm Ciao